Un grido, un giorno non è nato, non è vero? Segnarvi tutti gli indirizzi, la sposa abita e l'inviata a dettagli, lo sposo è inviata a dettagli, il suo numero è questo, il numero di scorta. Il numero di scorta. Dovete calcolare i tempi, quindi sapere a che ora è il matrimonio. Però quello che io vorrei fare oggi è mettere un po' di vedere alcune cose sulla pratica, un po' di vedere alcune situazioni che non si può riscattare. Dovete calcolare i tempi. Dovete calcolare i tempi.